continuo a vendere il pesce, salvo con i suoi collaboratori in questo quartiere che è bellissimo con delle persone che lavorano, che sudano dalla mattina alla sera e che portano a casa i soldi senza rubare niente a nessuno è validi ci sono appena i soldi, ma questi non ti cittano io sono finito in ospedale e tu hai fatto tutte cose è validi ci sono appena i soldi, ma non ti cittano ci stiamo sempre a parlare con i politici ma che stai a te? ma perchè ti metti le mani in cuore? ma perchè ti metti le mani in cuore? e allora non stai a parlare non vedi che vedi un parola ma che c'è a me? ma non vedi? certi qua vuoi come vinci a vincenderla non sei proprio per favore e se quello è bacio e se quello è vero aspettiamo la scogliera va bene, non rompere gli scogli tutto questo iscianolizzo Luca a me